Però l'hanno fatta arrabbiare, mi pare di capire, che la descrivono come un menagrammo chiusurista. Lei si è un po' innervosito su questa cosa? Ecco, non usi quel termine innervosito perché ho già mandato a quel paese un presidente di regione. Ah, è vero, no, per carità. No, perché quella sembra sempre un artificio dialettico un po' di bassa lega per cercare di mettere in difficoltà un interlocutore. Se l'interlocutore è un altro politico con il quale ti confronti, rimane un artificio dialettico di bassa lega. Se è un cittadino o uno come me che è un tecnico, assume un contenuto vagamente intimidatorio o comunque sminuente, non va bene. Ma dette queste cose che non interessano assolutamente a nessuno di quelli che ci stanno ascoltando... Parliamo della variante indiana, va? Sono d'accordo con lei. Ma io dico che siamo...